e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi sono qui vi faccio vedere questo nuovo unboxing dei queen in vinile stiamo parlando questa volta di live at the Wembley Stadium andiamo subito ad aprire questo vinile dove contiene ragazzi questa volta due LP andiamo a togliere la plastica andiamo a togliere la carta andiamo a vedere dietro 33 giri di puro rock questa volta è 3 LP 32 e 99 contiene 3 vinili ecco qua la tracklist di tutti e tre i vinili la prossima uscita avremo hot space ormai siamo anche alla fine per questa collezione ne mancano 1 2 3 4 5 e 6 altri 6 vinili e avremo concluso questa opera dei vinili dei queen in modo tale che avremo ragazzi che ho tutta la collana tutta la discografia dei vinili dei queen ragazzi completi completi di live andiamo ad aprire l'album ed eccola qua bellissima qui in live at the Wembley Stadium fantastica questa immagine di copertina qui abbiamo il retro qua abbiamo tutte le canzoni bellissime e andiamo ad aprire ragazzi il vinile in questo modo e abbiamo i tre vinili eccoli qua questo è il primo Queen Concert Ticket Couple ecco qua fantastico questa fotografia dello stadio dall'alto side 1 qui ci sono tutte le canzoni ecco qua una fotografia questo è il primo poi qui c'è il secondo ecco qua bellissimo fantastico ragazzi e qui abbiamo il terzo ecco qua favoloso qui abbiamo i vinili ecco qua questo è uno live at the Wembley Stadium qui c'è l'altro eccolo qua e qui ragazzi c'è l'altro tre vinili e niente ragazzi questo era l'unboxing dei del nuovo della nuova uscita dei win non vuole entrare all'interno mannaggia ok ed ecco qua ragazzi live at the Wembley Stadium mettete mi piace commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti